tanti pota a niente quanti sono a proposito che io non ho visto 97 e cittadino bella poi ad è esagerato chiamare cazzo dai mare chiamare che mi sembra esagerato chiamare questa situazione niente salta l'audio facciamo prima di situazione ma porco c'è una scritta comunque ne mancano due occhio che ne mancano due raga abbiamo detto che sono 111 mi sembra esagerato comunque chiamare carabinieri questa cosa ok di luce